Sindaco di Bari, i primi risultati parziali si intende su mille votanti alle 16.30, abbiamo l'Ello di Bari con il 47%, la Carparelli con il 37%, Vito Bianchi con il 15% e Glioschiavone l'1%, una sua dichiarazione rapida su questo primo orientamento. Sono dati che rispecchiano la nostra visione, l'obiettivo è quello di tirare ancora di più e di arrivare a cima a dolce. Siamo speranzosi? Assolutamente sì. Come diceva il Kennedy, la poltrona chiama lei o è lei che chiama la poltrona? La poltrona chiama lei. La poltrona chiama, ci vediamo più tardi, grazie.